Siamo contenti di essere qui, siamo stati tra i promotori della nascita del coordinamento e siamo entusiasti che il coordinamento nazionale si stia allargando con altri gruppi locali. Oggi c'è anche l'Assemblea quindi vogliamo un po' rafforzare come veniva detto prima, tenere sotto controllo e monitorare ciò che accadrà adesso dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Vogliamo anche rafforzare l'azione locale per modificare delle legislazioni regionali e ottenere anche l'ampliamento delle spiagge libere, delle componenti delle spiagge libere. Insieme stiamo provando anche a rafforzare le nostre strategie.